Ciao ragazzi, mi chiamo Mark, ho 7 anni e sono intelligente, vivace e iperattivo. Mi piace correre, rincorrere e ancora correre e avrei bisogno di un padrone sportivo che mi faccia giocare in un bel giardino. Mi piacerebbe tanto avere una nuova famiglia e se ti fa piacere puoi venire a conoscermi all'Adica di Borgo San Giovanni. Se invece non hai la possibilità di prenderti cura di me puoi aiutarmi ugualmente condividendo questo video. Grazie ragazzi e bau a tutti! Grazie a tutti!